I will be Mr. Alentino di Scena Grazie alle mie doti divinatorie affinate in anni di pratica di magia nera, negromanzia e un intenso ascolto di black metal, come avete visto nell'intro, Nick Walker ha annunziato al Pittsburgh Pro che, secondo lui si intende, quest'anno sarà Mr. Olimpia. Poi, guardatevi anche questo video che ho fatto una settimana fa perché capita a Fagiolo, perché spiego un po', cioè spiego, dico la mia, sulle possibilità di Nick diventare Mr. Olimpia e, come avrete visto anche nel video che ho fatto ieri su Derek Lansford, al Pittsburgh Pro c'è stato un bel guest posing con Nick Walker, Derek Lansford, Brandon Curry, che nonostante sia Mr. Olimpia è passato abbastanza inosservato, Mr. Olimpia di 30 anni. Anter Labrada. Come sempre, si restringe un po', chiaramente non è una vita alla Flex Wheeler del 93 o alla Brian Buchanan, però riesce a controllare molto bene lo stomaco in generale, non è mai stato accusato di distensioni, poi chiaramente magari nelle transizioni o quando è di spalle lo stomaco va un po' dove vuole, però nelle pose obbligatorie, che sono la cosa più importante, riesce a controllare abbastanza bene la vita e lo stomaco. Questo side chess lo stesso è una posa molto buona, ha fatto alcune pose obbligatorie, non tutte, però, secondo me, ha impressionato molto, sia in senso positivo che in senso negativo, tra virgolette, perché non so se ci sia questo bisogno di raggiungere queste masse esagerate in off-season, e non lo dico per un aspetto di salute, perché non me ne frega niente, cioè che faccia quello che vuole. Se vuole vincere il Mr. Olimpia è giusto che faccia quello che ritiene opportuno o igienico, come dice mio padre. Una cosa che non mi è piaciuta più che altro è quest'acne che si vede nella zona dei femorali e nella lower back, e quando l'ha intervistato il presentatore del guest posing, gli ha chiesto appunto alcune cose e Nick ha detto che quest'anno sarà il Mr. Olimpia e poi che sta facendo tutto il necessario per esserlo, cioè disciplina, va a letto sempre alla stessa ora, mangia sempre le stesse cose, si allena, punto, e ripete tutto quanto. Quindi secondo me ci sono le basi per diventare il Mr. Olimpia, come ho detto in quell'altro video, ma io non penso che sarà il Mr. Olimpia quest'anno, cioè come ho detto in quel video, secondo me Big Rami ha almeno uno o altri due anni di titoli del Mr. Olimpia, però chiaramente Nick Walker è un grande candidato per il passaggio della guardia, quando gente come Rami, Bonac e Brandon Carey, perché, come ho detto, nonostante abbia vinto il Mr. Olimpia 2019 e sia fresco vincitore dell'Arnold Classic, mi sembra che stia appastando abbastanza in sordina e mi sembra che non se lo stiano inculando granché. Cioè, per uno che è il Mr. Olimpia del 2019, due volte campione dell'Arnold Classic, e in più campione dell'Arnold Classic, cioè, due mesi fa, non di un anno fa, non mi pare se ne stia parlando granché, in questo guest posing si è parlato molto di più di Derek Lansford, soprattutto, ma anche di Nick Walker, cioè mi sembra un po' strano che uno che dovrebbe essere uno dei pappabili contendenti per la vittoria, venga un po' ignorato, ma non da me, in generale, e poi andatevi a spulciare i video che ho fatto post-Arnold Classic, dove parlo di ladrate ai danni di Bonac, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, in conclusione, io non penso che Nick vincerà il Mr. Olimpia quest'anno, penso che lo vincerà nel giro di due, tre anni, quattro, però non sicuramente quest'anno, è il bodybuilder con più potenziale, nel senso che ha fatto una scesa rapidissima nelle gerarchie AIPB e Mr. Olimpia, cioè esordio al quinto posto a Mr. Olimpia, campione dell'Arnold Classic all'esordio, nel giro di un anno dalla vittoria della Procard, quindi un bodybuilder con un potenziale enorme, disumano, però, secondo me, ci vorrà ancora un po' prima che possa effettivamente mettere le mani sul Sandow, buona, eh? Grazie a tutti.